Buongiorno nomadi, oggi vi parlo andando a prendere Camilla a scuola. Allora, mi vergognerò tantissimo, perché ogni tanto incontrerò qualcuno sicuramente, ma perlomeno riesco a farvi questo super salutino. Io sono Gretut, noi siamo famiglia nomade, vi raccontiamo la nostra vita in una famiglia di 5 persone. Abbiamo 3 bimbi e per chi ormai ci seguita tanto lo sa, siamo una famiglia nomade, che ci piace girare, non riusciamo mai a stare fermi, ci piace fare un sacco di cose nuove. Oggi vi parlerò un pochino di quella che è stata la mia delusione. Parlo spesso di rapporto di coppia e oggi io ho avuto una grandissima delusione da parte di mio marito, dove sicuramente lui è stato deluso da me a sua volta, ma io sono stata delusa e parlo della mia versione. E quindi niente, adesso sigla e poi vi racconto. Eccomi qui, nomadi, parte il racconto. Partiamo dal presupposto che noi siamo due partite ive, lavoriamo, io lavoro spesso da casa, Simone invece lavora di più in giro. Quindi, di conseguenza, nel senso lui, uscendo presto al mattino, porta i ragazzi, i grandi, a scuola e io tengo la cucciolina, mi occupo della cucciolina generale e quant'altro. Queste mattine io, molto spesso, adesso lui, essendo tanto oberato di lavoro, quindi ha tanto lavoro da fargli, gli sto dicendo come posso darti una mano. Ah, non riesci, non puoi, ok. Oggi mi ha rinfacciato il fatto che non gli ho assolutamente dato una mano, che molto spesso gli chiedo come dargli una mano e che io oggi non gliel'ho data. Quasi rincarrando il fatto che gli ho messo i bastoni tra le ruote perché gli ho lasciato la creatura. Veniamo ai fatti. Cos'è successo? Queste, secondo me, sono dinamiche che succedono in tantissime famiglie, solo che io oggi, cioè, mi sento veramente una cacca e mi sento anche offesa d'altra parte, quindi sono due personalità differenti e so che in tante si possono sentire come me, ma in realtà è tutto nella norma perché siamo due mondi paralleli, donne e uomini, mariti e mogli, e ci possono essere queste incompressioni. Partiamo dal presupposto che, vi ripeto, io e Simone abbiamo un problema di fondo, la comunicazione. Ci stiamo lavorando, stiamo cercando di capire quant'altro, ma ce l'abbiamo, è una cosa che la comunicazione viene un po' meno, ok? Allora, stamattina mi ha chiesto se potevo portare io i ragazzi, i grandi, a scuola, visto che lui aveva tanto da lavorare a casa. Non c'è problema. Visto che molto spesso lui mi dice, quando magari capita che io porti i grandi a scuola, perché non mi lasci la piccolina? Io non ci ho pensato due volte. Fa freddo, faceva veramente freddo stamattina, c'erano 5 gradi. Ho detto, vabbè, senti, ti lascio la piccolina. Mi diceva, torni subito a casa. Io gli ho detto, sì, guarda, vado in posta perché lui mi ha sellato, perché dovevo prendere una raccomandata, e torno subito, tanto è vero che alle 8 sono uscita di casa, alle 9 meno 10 ero già a casa, facendo tutto quanto e tenendo conto, tenendo, oggi non ce la faccio parlare, tenendo conto del fatto che la mezzana entra alle 8 e 10, quindi, insomma, sono anche stata abbastanza nei tempi. Fatto questo, lui continua a lavorare, io mi occupo della piccolina giù di sotto, io anche dovrei lavorare così, però, vabbè, un passaggio che viene un po' in secondo piano. E poi, verso, manca un quarto a mezzogiorno, dico, vada a prendere Camilla a scuola. Puoi scendere che ti lascio, Carola? Da qui il putiferio. Sicuramente io non ho afferrato il concetto che poi mi ha detto palesemente, perché invece lo dovevo intuire, del ho tanto da lavorare, sono un po' in ansia, portatela. Questo io non l'ho percepito, perché, come mi ha detto, ma sì sì, la tengo io al mattino, pensavo che fosse un, ma sì sì sì, la tengo io anche al ritorno. La questione è che io non riesco a mettermi nei suoi panni, perché lavorando io, sempre, costantemente, con Carola appresso, per me, Carola, non è un ostacolo lavorativo. è un freno, nel senso che mi rallenta magari tantissimo, ma sono straabituata a lavorare con questo tipo di ritmi, magari recuperando in altri momenti, quando va a dormire e quant'altro. Quindi non sono abituata alle reazioni, come poteva essere in questo caso quella di Simone, con il, eh ma mi hai lasciato Carola tutta la mattina, a parte che non glielo ho lasciato tutta la mattina, ma vabbè, per l'andata e il ritorno a prendere a scuola i bambini, praticamente è come se io non l'avessi fatto lavorare, sapendo che invece lui aveva bisogno di lavorare. Ora, a questo punto, avrete appurato anche voi che c'è un problema di comunicazione, perché se lui da fin da subito, io purtroppo sono fatta così, sono molto uomo in queste cose, nel senso che a me le cose le devi dire chiaramente. Mi dice, guarda, non riesco a tenerla, te la puoi portare per favore? E io a quel punto dico, ok me la porto, non è un problema. Questa cosa non avviene, perché secondo lui era sottimitato, ha tenuto il muso e io uscendo di casa mi sono resa conto, quindi pensatemi, io lì per lì non me ne sono neanche resa conto di quello che potevo aver fatto, e io ho detto, qual è il problema? Mi puoi spiegare, per favore, gentilmente, qual è il problema? E lui mi ha detto, tirandoglielo fuori, no perché mi hai lasciato lei, io ti ho detto che ero sovraccaricato di lavoro da fare e tu mi hai lasciato carola. Io ve lo giuro, sono complicata, ma ho fatto fatica a comprenderlo, faccio tuttora fatica a comprenderlo, ma come al solito, mi metto in discussione. Probabilmente avrei dovuto capirlo, captarlo, mettete però che non potevo intuirlo. forse avrei dovuto prepararla e venire via con lei? Non lo so, non so cosa avrei dovuto fare, fatto sta che questo è un esempio, un esempio di tantissime cose che molto spesso portano al litigio. Molto spesso, come vi dicevo anche in altri video, ho parlato di discussioni in famiglia, qui da noi ce ne sono tantissime, tantissime sono proprio create da queste discussioni, dove ci sono quei detti non detti, che poi vengono detti dopo, in malo modo, perché lui ci ha messo un tanto e vi giuro che abbiamo lavorato tanto su questo, perché di solito non me lo dice proprio nel momento stesso, anche se l'ho dovuto pregare di dirmi cosa c'era, qual era il problema per dieci minuti di fila, però difficilmente, di solito lo dice e me ne parla giorni e giorni dopo, dopo un silenzio lunghissimo. Quindi stiamo già lavorando veramente sul tanto. Ora qual è la mia domanda, il mio dubbio, cosa avrei dovuto fare, quindi quale sarebbe stata la mia reazione migliore da avere in quel momento lì, ma soprattutto la mia reazione, quale sarà la mia reazione adesso, perché io lì per lì l'ho ascoltato e forse gli ho dato poca importanza, però io non potevo capirlo, cioè non posso ancora, non sono capace di leggere il pensiero, magari un domani potrei avere questo potere, però mi ha scazzato veramente tanto, perché lui ha compreso che con Carola è molto difficile lavorare e non comprende che io lo faccio ogni santo giorno e questa è forse una cosa che magari scoprirà in futuro, magari quando guarderà questo video, se non sarà guardando questo video, sarà sinceramente magari la prossima volta che gli dirò questo è quello che provo io quando mi dirà, ah cavolo è difficile lavorare con Carola, è quello che faccio tutti i giorni, e seconda cosa, sono arrabbiata, sono arrabbiata ma forse ingiustificatamente, sono più, dovrei essere semplicemente solo delusa, perché comunque bastava parlarmi, cioè quasi come se lui non, non mi potesse parlare esplicitamente, il fatto è che non sono arrabbiata alla fine né con lui personalmente né con la nostra relazione, io riesco in una cosa così dove apparentemente non ho neanche più di tanta colpa, perché lui avrebbe dovuto e potuto dirmelo, con me stessa, con me stessa perché non sono stata in grado di capire, non sono stata in grado di intuire, e non mi capacito di come avrei potuto fare in modo diverso, scusatemi, non di come avrei potuto fare, non mi capacito di come non ci sei arrivata, ecco questo siamo noi donne, siamo complicate, le cose le vediamo in modo ancora più complicato, probabilmente di quello che sono, lo facciamo molto spesso, sono certa che tante di voi saranno magari ritrovate in questo mio racconto, e ve lo giuro quasi il magone, perché poi mi sento proprio in colpa e mi dispiace, dall'altro canto però sono molto arrabbiata e molto delusa, come avevo già detto, all'interno di questa giornata ci saranno tantissime altre emozioni, all'interno della settimana tantissime altre, mesi, anni, potete immaginarvi quanto è complesso un rapporto con una persona, soprattutto se è un rapporto duraturo che dura negli anni, soprattutto se poi di mezzo ci sono dei figli, insomma tutta questa pappardella per dirvi che è tutto normale, che gli scontri ci possono essere se non tutti i giorni quasi, o anche tutti i giorni, che bisogna lavorare su se stessi, io devo cercare di capire che, potevo sicuramente ascoltare, no perché non mi è stato detto così chiaramente, però potevo cercare di parlare con lui, uscendo di casa dicendogli, guarda se la prossima volta sei più chiaro con me, io posso provare a capirti, due, devo smetterla di essere arrabbiata con me stessa, perché non potevo intuirlo, stanno uscendo i ragazzi, niente vedete il cambio di postazione, perché la vita di coppia è così, è fatta di interruzioni, e più si riesce ad essere sinceri, e a parlare in modo schietto, e continuo nell'immediato, meglio è, perché i detti non detti sono la peggio cosa di sempre, e questo l'ho imparato, ci sto lavorando, ci stiamo lavorando, però non sentitevi mai in difetto, come dico sempre, ci vediamo al prossimo salutino, che vorrei proprio, secondo voi, fare la seconda parte con Simone, quindi magari faremo il secondo salutino a due teste, e poi faremo la prima parte con Simone,